Il comitato via dalla bocciatura per il progetto Megalo 2. Da un lato c'è la soddisfazione degli esercenti e commercianti ma anche degli ambientalisti. La società però realizzatrice del progetto annuncia già il ricorso al TAR. A noi dispiace che ci sia tanta insistenza inutile per cercare di costruire in un posto in cui non si può costruire. Il WF è già pronto a costituirsi al TAR, certamente contro questo progetto, ma il TAR non può dare darci ragione. È assurdo che si possa pensare, dopo tutto quello che è successo in Abruzzo, nell'inverno scorso, che si possa continuare a pensare di costruire in zone a rischio. Lunghi fiumi non bisogna costruire, bisogna togliere quello che c'è e questa è una regola di base che deve essere applicata ovunque. Non possiamo continuare a piangere dopo disastri e a fare in modo che i disastri si possano creare costruendo dove non si può. È ora di cambiare mentalità. Il comitato via ha fatto una scelta eccellente in difesa dell'interesse della collettività e non dell'interesse di un singolo imprenditore. Noi ovviamente difenderemo questa scelta in ogni livello, ma non ci preoccupa la causa al TAR, non ci preoccupa nulla. Ci preoccupa soltanto questa insistenza da parte dei proponenti nel cercare di fare una cosa che è sbagliata.